Vediamo oggi come ottenere un effetto di Glow Skin, ovvero pelle splendente, in soli due passaggi. Il primo passaggio sarà quello di andare ad aggiungere un leggero tono di verde alla pelle, dato che risulta essere sempre rossa, quindi andiamo a neutralizzare il suo colore. Mentre il secondo passaggio richiederà di aggiungere luce e quindi aggiungere anche contrasto alla pelle. Per fare questo non dobbiamo far altro che andare a creare un livello di tonalità e saturazione. Abbiamo bisogno di campionare un colore della pelle. Di solito, ad esempio, qui nella zona della guancia è presente la maggiore informazione della tonalità della pelle, dato che le altre non sono sempre di alta luce, ad esempio qui c'è un'alta luce, anche qui sul naso, qui sulla fronte. Quindi vado a campionare qui in maniera grossolana, non c'è bisogno di fare una sfocatura media per andare a trovare il colore preciso della pelle. E vado ad aggiungere qualche punto, quindi ad esempio 5 punti per già venire un prima e dopo, aggiungere un leggero tono di verde. Quindi stiamo andando ad aggiungere anche, a raggiungere anche una tonalità quasi oro della pelle. Il secondo passaggio richiede un livello di regolazioni curve. Praticamente dobbiamo andare ad alzare le alte luci ed abbassare le basse luci, così da ottenere, come vedete, maggior contrasto sulla pelle. Adesso mascheriamo solamente sulla pelle utilizzando il pennello e andiamo ad invertire la maschera con Command o Control-I e andiamo a pennellare con una durezza abbastanza bassa e un pennello abbastanza grande tutta la pelle. Ovviamente non c'è bisogno di essere precisissimi in questa cosa, ma fate attenzione comunque ai dettagli che andate ad includere. Questo è un prima e un dopo dell'effetto. Se l'effetto ci risulta essere troppo accentuato lo posso andare anche ad abbassare oppure posso andare a regolare all'interno dell'effetto, ad esempio se voglio meno luce vado ad abbassarmi solamente la luce o se voglio meno verdino sulla pelle, voglio mantenere il tono più simile a quello che sono andato a scattare o a regolare, vado ad abbassare questo livello. Come vedete questo è un prima e questo è un dopo, quindi la pelle risulta essere proprio quasi dorata. Questo videotutorial finisce qui per oggi. Io vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al mio canale per supportarmi e soprattutto di suggerirmi dei video che volete vedere qui sul canale. Un saluto da Marco.